come posso far sì che la mia mente resti lucida e performante nell'arco della giornata sia che sia di lavoro sia che sia di studio questa è una delle domande che ricevo più spesso andiamo a vedere quello che io personalmente faccio augurandomi che possa esserti d'aiuto lo riassumiamo in cinque punti il primo è l'ambiente crea un ambiente adatto che ti possa aiutare a rimanere lucido e focalizzato per ambiente adatto intendo la luminosità dell'ambiente un ambiente bello che ti faccia venire voglia di starci il tuo studio deve essere un tempio dove lavori deve essere un tempio per l'apprendimento oppure per la produttività questo vuol dire un ambiente ordinato senza distrazioni pulito questo perché se ci fosse qualcosa fuori posto alla prima difficoltà quella cosa diventerà una scusa per interrompere quello che stai facendo e sentirti comunque la coscienza a posto no ma devo sistemare devo ordinare e guarda che caos che c'è intanto metto un po a posto uno dei rituali che io ho personalmente è quello di finito quello che sto facendo ordinare la mia scrivania sulla mia scrivania la voglio vuota questa è una delle cose che a me personalmente più fa fare la differenza concentrarmi su una cosa alla volta difatti il secondo punto è evitare il multitasking non ha senso aprire dieci cose contemporaneamente e lasciarne sette a metà interrotte perché la tua mente dopo inizia a saltare da un'attività all'altra come una scheggia impazzita però il fatto di non chiudere nessuna attività ti porta un senso di frustrazione a fine giornata perché non puoi diciamo spuntare o flaggare nessuna delle attività che hai iniziato quindi tanta concentrazione tutta su un'unica cosa tanti pensano che fare più cose si ha un'abilità e guarda io faccio tre cose contemporaneamente in realtà questo lo riusciamo a fare quando le attività richiedono un basso dispendio di energia se le attività iniziano a richiedere un livello di energia mentale più alto e diventa difficile seguirne già due contemporaneamente ci vuole un grande allenamento si può fare con l'allenamento nella quotidianità non succede di avere quel tempo per allenarsi e svolgere due attività impegnative contemporaneamente prendine una concentrati su quella dopo è chiaro che farai il multitasking nell'arco della giornata ma monofocus nel senso che nell'arco della giornata andrai a concentrarti prima su un progetto dopo nel contatto con i clienti se no per uno studente sarebbe come dire studio tre materie contemporaneamente no studio per due ore una materia per due ore un'altra e magari le alterno in modo strategico ovvero prima ne faccio una molto impegnativa dopo ne faccio un'altra più leggera questo è il terzo suggerimento ovvero fare combaciare momenti ad alta energia mentale con le attività più impegnative e dopo avere delle pause per recuperare sappi che la pausa fa parte del lavoro considerala in questo modo la pausa fa parte dello studio esattamente come per lo sport i tempi di recupero fanno parte dell'allenamento considera la pausa una cosa che ti aiuta ad essere più produttivo ma che cosa è importante fare durante la pausa per essere produttivo qualcosa che ti faccia scollegare completamente la mente senza inserire altre informazioni molti durante la pausa guardano magari le mail oppure vanno sui social network questo porta a distogliere l'attenzione a trovare delle cose interessanti che in qualche modo assorbono energia mentale e soprattutto non ci rendiamo conto del tempo che passa cosa che voglio assolutamente evitare quindi tolgo tutte le distrazioni come queste e il telefono modalità aereo come è esattamente in questo momento in cui sto girando questo video perché non voglio avere neanche il pensiero che qualcuno mi possa cercare adesso sono completamente concentrato sul girare questi video allo stesso modo evita le distrazioni che ti possono in qualche modo penalizzare immagina durante questo video magari succede qualcosa e dico fammi vedere chi mi ha cercato no ma aspetta importante e dopo il costo di rifocalizzazione è molto alto dico ma cos'è che stavo dicendo no aspetta ripartiamo evita tutto questo concentrati su una cosa alla volta e fai le giuste pause per recuperare la pausa può essere breve ma fatta frequentemente 10 minuti 15 minuti io personalmente ogni 40 minuti stacco oppure alterno un'attività molto impegnativa con una più leggera un altro suggerimento per rimanere performante lucido è avere un piano di lavoro voglio mettere la mia mente nella condizione di non dover pensare alle cose da fare ma nella condizione di farle di risolverle non voglio dedicare energia a capire quale attività devo svolgere adesso quello l'ho già fatto precedentemente se ho sviluppato un piano voglio avere un piano mensile settimanale e giornaliero parto dalla fine quello che in ingegneria viene chiamato un processo inverso di reverse engineering quindi parto dal risultato finale voglio scrivere un libro oggi che capitolo devo scrivere quindi voglio scrivere entro questo mese un libro quanti capitoli devo scrivere a settimana e oggi che cosa devo fare vado a scomporre il tutto al contrario se ho una buona pianificazione che tiene anche conto di margini di sicurezza diventa molto più semplice per riuscire a realizzare i nostri obiettivi molte persone si dice vanno sempre a sovradimensionare quello che possono fare sul breve termine del tipo in questa mezz'ora rispondo a 15 mail e dopo 20 minuti ti rendi conto che risposta tre mail alla fine smetti di fare quello che stai facendo perché tanto senti che non riesci a portare a termine il tuo obiettivo e sottodimensionano quello che potrebbero fare sul lungo termine quotidianamente per esempio dell'esercizio quotidiano un quarto d'ora tutti i giorni sul lungo termine come va a condizionare i tuoi risultati questo è quello che fa la differenza un altro aspetto fondamentale è quello di creare un ambiente dove ci possa essere un'armonia se lavori in team questo aspetto fa una differenza enorme l'armonia del team le relazioni la piacevolezza dell'ambiente di lavoro al di là dell'ambiente fisico ma delle relazioni perché se hai delle preoccupazioni o dei pensieri questi toglieranno energia alla tua mente e diventerà più difficile essere focalizzati cerca tutti i modi di creare un ambiente dove le relazioni possano aiutarti il team ti aiuta ad andare lontano se invece puoi andare velocemente vai da solo ma non potrai contare su qualcuno che ti potrà sostenere nell'istante in cui incontrerai delle difficoltà quindi se il tuo percorso è sul lungo termine coltiva le tue relazioni e fai in modo che queste relazioni possano essere davvero una fonte di energia è qualcosa di davvero bello per te perché nell'istante in cui ci sono difficoltà e ti verrà di mollare tutto il team ti aiuterà ad andare avanti questo è un esempio tipico dello sport mi auguro di averti dato cinque suggerimenti davvero utili e se in qualche modo ti sono stati utili ti invito a iscriverti al canale e a condividere il video con chi sai che potrebbe trarne beneficio